Torna nelle acque del Golfo Partenopeo e festeggia quest'anno la cinquantesima edizione, la maratona di nuoto Capri-Napoli, trofeo supermercati piccolo. 28 atleti in rappresentanza di 13 nazioni si sfideranno domenica 6 settembre nella storica attraversata di nuoto di fondo che unisce l'isola azzurra al lungomare di Napoli. La competizione 2015 chiude inoltre il circuito di Coppa del Mondo Fina ed assegnerà oltre alla vittoria di tappa anche i titoli ridati maschile e femminile. Sicuramente quella di quest'anno è un'edizione speciale, la cinquantesima, quindi abbiamo cercato di realizzare un programma articolato che è già partito negli scorsi mesi e che andrà avanti ovviamente in questi giorni con la gara ufficiale che è il clou dell'evento domenica mattina. Partecipano tutti i campioni della disciplina. Qui a Napoli, oltre che la vittoria di tappa, sono in palio anche i titoli mondiali, quindi sicuramente un pezzo di Napoli sportata nel mondo. La gara su un percorso di 36 chilometri partirà dall'Idole Ondine di Capri domenica prossima e arriverà a Napoli nelle acque antistanti del Circolo Canottieri dove è allestito il villaggio Accoglienza. Numerose quest'anno le iniziative collaterali all'evento, tra cui una mostra di foto storiche e cimeli dedicati alla Capri Napoli ad ingresso gratuito presso l'hotel Mediterraneo, la riedizione del libro I giganti del mare e dei giornalisti Franco Esposito e Marco Lobasso ed una regata promozionale di canottaggio. Iniziamo alla grande, direi, con una manifestazione straordinaria. La Capri Napoli evoca attività sportive mitologiche, perché io ritengo che la cinquantesima edizione sia un fatto veramente straordinario, ma non soltanto per il numero degli anni per cui viene fatta questa straordinaria manifestazione. Il numero di partecipanti, 28 superatleti, direi, 36 chilometri a nuoto, insomma, veramente parliamo, come dire, di una cosa, di un'impresa, ecco. Napoli è lieta di ospitare una manifestazione del genere e soprattutto è lieta di essere al centro, diciamo, di attività sportive così belle come può essere la Maratona della Capri Napoli.